I partiti hanno fatto un passo indietro per appoggiare Nello Pizza che è un cittadino come gli altri, che vuole stare in mezzo alla sua gente, ascoltare la sua gente, che ha a cuore semplicemente il bene degli avellinesi. E quindi noi appoggiamo questi sindaci, i loro progetti, perché siamo convinti che sono quelli che porteranno avanti il bene dei cittadini. A proposito di progetti, qualcuno che avete messo in piedi anche con il governo per queste zone sembrano in qualche modo in bilico in queste ore? Sì, bisogna scegliere tra lo sviluppo o la retratezza. Se si blocca l'alta velocità, se si blocca la stazione Irpigna, le aree interne come Avellino non avranno mai occasione di sviluppo economico vero e di lavoro. Quindi se vogliamo dar lavoro ai nostri giovani dobbiamo proseguire nei progetti di sviluppo. L'alta velocità ha portato lavoro al nord, ha portato lavoro anche nelle aree più marginali come era la mia città quando io l'amministravo ed è una soluzione giusta per le aree interne, ma qui anche abbiamo grandi progetti. Si è finanziato per oltre 30 milioni i progetti per l'housing sociale e per la riqualificazione dei quartieri. Quindi a noi interessa promuovere la buona amministrazione e migliorare la vita dei cittadini. Tornare indietro su queste scelte è davvero togliere opportunità ai giovani di Avellino.